Novità dal punto di vista della mobilità per la ripresa dell'anno scolastico che in alcuni istituti cittadini prenderà il via lunedì, in altri il 13. Dall'11 l'AMA, l'azienda del trasporto pubblico locale, riprende con il servizio a scuola. Per rispondere alle esigenze dei cittadini sono state ottimizzate alcune linee specifiche anche dal punto di vista degli orari. Questo riguarda gli istituti di Colle Sapone, Cotugno, Mazzini, Pettino e Sassa. Negli anni, soprattutto a Colle Sapone, ci sono stati maggiori problemi visto che lì c'è la più alta concentrazione di scuole. L'azienda ha pure implementato il sito per cercare le linee e percorsi alternativi, inserendo i punti di partenza e arrivo e tramite due app si possono comprare i titoli di viaggio. La novità è l'app Amma l'Aquila che permetterà di acquistare tutte le tipologie di abbonamento in formato digitale. Per quanto riguarda la viabilità nella frazione di Monticchio ci sarà un percorso alternativo che potrebbe comportare più tempo, ma se ci saranno problemi l'AMA valuterà il raddoppio della corsa sulla linea Fossa l'Aquila e Monticchio l'Aquila. Inoltre, per garantire la sicurezza degli studenti, verranno impiegati vigili urbani e rappresentanti di associazioni. Anche quest'anno, come ogni anno, alla ripresa delle elezioni, ci saranno gli agenti della Polizia Municipale a garantire l'ingresso e l'uscita in sicurezza dei nostri alunni dai plessi scolastici. Saranno 12 già da lunedì le unità destinate a questo servizio. A queste unità di personale della Municipale verranno poi nei prossimi giorni affiancati anche i volontari che hanno dato la disponibilità. Parliamo delle associazioni dei carabinieri, quella degli alpini e quella della Polizia di Stato, con le quali nei prossimi giorni sottoscriveremo le convenzioni. Ad essi va già da subito un enorme ringraziamento da parte mia e di tutta quanta l'amministrazione comunale. Infatti, grazie a loro, riusciremo ad aumentare il numero di plessi scolastici che godranno di questo servizio di sorveglianza.